Allora Marco Evangelisti, un coach veramente soddisfatto, oggi ho imbronciato come spesso, anche se diciamo così può esserlo imbronciato, in quanto abbiamo avuto una partenza veramente precaria, però la dimostrazione che i ragazzi hanno sentito la scossa e sono entrati nel binario giusto per cercare di capovolgere il risultato che li vedeva penalizzati di 7-8 punti nel primo tento. Allora innanzitutto faccio i complimenti a coach Spinello perché è ai ragazzi di Siena che sono venuti in una situazione disperata e hanno fatto una grandissima partita, complimenti ai loro giovani perché si vede lavorano bene durante tutto l'anno perché sono veramente già pronti per giocare in un campionato senior e per la partita hanno fatto veramente tanti complimenti. Per quanto riguarda noi, sono contentissimo per il risultato, abbiamo fatto un'altra grande vittoria, sono assolutissimamente insoddisfatto dell'atteggiamento dei miei perché mi ero raccomandato di giocare con attenzione e con la stessa intensità che mettiamo in difesa ogni partita a noi perché ci possiamo salvare nel senso vero del gioco solo con quella e obiettivamente i primi due parti sono stati in difesa allucinanti, imbarazzanti, hanno fatto canesso da tutte le parti, noi concedevamo tutto e lui poteva concedere. Poi per fortuna abbiamo a strappi difeso di squadra, difeso uno contro uno e siamo venuti fuori. Ma ripeto, sarei un dilettante se dicessi che sono contento, io non sono un dilettante quindi ti dico che non sono contento per niente. Comunque, complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella vittoria, c'erano due punti da prendere e l'hanno preso. Io voglio fare i complimenti a Siena perché avevano quattro giocatori del quintetto base che non avevano, quindi sono venuti ad Arezzo, umilmente hanno venduto cara la pelle, quindi tanto di cappello a questa squadra. Ovviamente sono contento per la vittoria, questi sono due punti fondamentali per la classifica, molto importanti. Ovviamente, come ha detto l'allenatore, ci sono ancora un po' di problemi, bisogna metterli ancora a posto e bisognerà ora cominciare a dire che bisogna farlo subito, non tanto per il cuore, come dici te, ma per intelligenza tattica nel gioco. Ci sono delle cose che banalmente vengono sbagliate, che nemmeno nel mini basket, e queste cose non devono succedere. Quindi concentrazione massima, lavoro in palestra, come si dice Arezzo, e camminare.